Oggi è mercoledì 29 aprile 2020, sono le 8.55 e vi do il benvenuto ad un'altra giornata insieme ad un'altra puntata di Market Briefing Diretta TV, che come sempre vi accompagna con l'apertura dei mercati europei la mattina alle 9 e con l'apertura dei mercati statunitensi oggi pomeriggio alle 15.15. In realtà oggi pomeriggio alle 15.15 c'è comunque Market Briefing, siamo insieme a Davide ma con una piccola sorpresa, un webinar operativo dedicato proprio al trading, poi ce ne parla Davide, stasera non vi dimenticate la Fed, quindi Market Briefing tripica, perché saremo insieme anche per la riunione della Fed, attesissima, così come domani seguiremo insieme la conferenza stampa della BC alle 2.30, però andiamo con ordine, voi basta che vi iscriviate soprattutto ai canali YouTube di Davide Biocchi e o di Diretta Sim, nel momento in cui andiamo in onda vi arriva una notifica, se attivate appunto la campanellina, così siete sicuri di non perdere nessuna puntata di Market Briefing, siamo comunque in multistreaming anche sui canali Facebook e su Twitter di Diretta e di Davide, quindi insomma è difficile non trovarci. Davide ti vediamo già inquadrato, giornata molto piena oggi, tanta attesa per la Fed, buongiorno. Buongiorno a tutti, grazie di essere qui, allora subito chiediamo di prestare un attimo di confidenza diciamo così al disclaimer, è sempre importante valutarlo con attenzione, poi abbiamo diciamo ecco qua il Whatsapp a cui potete scriverci, ricordo che è assolutamente importante, assolutamente fondamentale che voi mi iscriviate su Whatsapp se volete risposte praticamente sempre disponibili, ecco in qualche modo, quindi è assolutamente interessante per voi poter mettere le vostre comunicazioni su Whatsapp, ovviamente potete usare anche le chat dei social da cui ci state seguendo, Whatsapp mi consente un'interattività con voi praticamente sempre costante. Ok, allora quindi eccoci qua con i nostri ospiti, ovviamente oggi abbiamo ospite il nostro Eugenio, ciao Eugenio, bene Eugenio si è frizzato, Eugenio ci sei? Sì, ci sono ma è come la solita linea, poi oggi si pioggia quindi è ancora peggio. Bene, 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 allora Eugenio, beh intanto cosa dire, andiamo un attimo a vedere però la situazione sui mercati perché siamo prossimi in apertura, allora un'apertura vista in territorio un poco favorevole, positivo, quindi direi buon auspicio, vedete qua un buon numero di titoli che hanno l'apertura in verde, bisogna verificare anche come reagirà la borsa oggi al declassamento da parte di Fitch, non so se qualcuno di voi stamattina ha sentito i giornali radio, ha visto qualcosa da televisione, insomma Fitch ci ha declassato in maniera presumibilmente in attesa, diciamo che questo ha scatenato molte ire da parte del governo, addirittura qualcuno ha detto che da questo momento è un nemico giurato Fitch, insomma no? E può darsi che oggi soprattutto le nostre banche siano sotto pressione, bisogna monitorare attentamente lo spread per capire che cosa può succedere, vediamo qua il comparto bancario, finora abbiamo un'apertura in negativo per intesa, ma cerchiamo di capire anzitutto se riusciamo a cogliere qualche opportunità, vediamo Italgas, vediamo Salvatore Ferragamo e Moncler, allora io andrei su Italgas e su Moncler, senza dubbio, togliamo per un attimo i grafici, Moncler ce l'abbiamo già qui, metterei Italgas e poi metterei Intesa San Paolo, giusto per avere un po' di, come dire, vedete, già meno uno il teorico d'intesa e il FIB già di suo, diciamo così, ha, differentemente dagli altri mercati, è visto in territorio negativo, allora andiamo a vedere se dobbiamo pensare invece che la borsa possa scendere, ovviamente gli short non si possono cavalcare, ma potremmo forse direi Tenaris potrebbe non essere interessante, forse buzzi, perché comunque vedete che i volumi pian piano che si apre vanno un po' crescendo, insomma andiamoci a vedere l'apertura, questa è la cosa forse più importante, c'è da capire, c'è da capire qui se la situazione, eccola qua, vedete subito intesa che si muove verso il basso, guardate l'apertura 1,44, vediamo perché la situazione, eccolo qua, guardate già siamo con il future a meno 0,50, questa è la prima reazione, però io non, cioè può darsi che ci sia una reazione iniziale, ma che poi il mercato anche tenda un po' ad assestarsi, è tutto da valutare, allora io metterei magari anche più che Moncler, forse qui Unicredito per vedere che cosa capita, eccolo qua, sotto il minimo di giornata, anche nuovo minimo su Intesa, insomma, comparto bancario che ieri ha rialzato la testa, lo vediamo qua, il listino sta virando lentamente in negativo, nuovo minimo per Unicredito, lo vediamo qua, insomma la situazione si fa un po' tese Eugenio, cosa dire di questo taglio del rating un po' sorpresa da parte di Fitch, Standard & Poor's aveva proprio venerdì confermato il rating e quindi, insomma, qualcuno dice che questa azione di Fitch è un po' una pugnalata nella schiena, cosa dire Eugenio? Io direi che erano stati troppo buoni venerdì scorso. Io ho fatto questo commento e cioè ho detto che, come dire, il maestro di scuola, se io non faccio tanto bene un'interrogazione e ho delle scuse, avevo parlato della nonna che non stava bene, che era una scusa, insomma, che ai miei tempi andava molto di moda, in realtà può essere comprensivo, se un'agenzia è un'agenzia internazionale di rating e deve basarsi sui numeri, probabilmente non può avere un cuore. Detto questo, diciamo che, come dire, nel giudizio uno può anche però chiarire, voglio dire, che si tratta di una situazione short term e nel medium term, magari la situazione può evolvere diversamente. In ogni caso, ecco, c'è modo forse di capire, di cucire queste situazioni, onestamente mi sembra che, come dire, ci sia una via del giusto mezzo, ecco, probabilmente, che è quello che tutti ci aspetteremmo, cioè di un giudice abbastanza severo che però racconti anche, voglio dire, io apprezzavo quei professori che magari mi dicevano che il mio voto non era tanto alto, ma che vedevano delle possibilità di miglioramento, ecco, se proprio la vogliamo dire in questo modo. Dopodiché, io sono del parere che questa mattina ci sarà una reazione negativa, soprattutto sui bancari e poi magari che il tutto vada un poco migliorando, però vediamo, vediamo, diciamo, che cosa succede. Ecco, allora, poi tornerei a fare la panoramica anche con Stefano per vedere, ma lo facciamo tra un poco, per vedere se qualcosa con la seduta di ieri è cambiato un po' nei grafici. Ma nel frattempo, Eugenio, mi interessa molto il tuo parere in generale, proprio il parere di pancia su questa situazione. Sì, come dicevo, secondo me era stato troppo buono il venerdì, io cerco sempre, sono un po' montanelliano io, quindi un italiano anti-italiano, che vede soprattutto i difetti, appunto, se riguarda il grandissimo giornalista Montanelli. E la Fice, come altre agenzie di reti, sono pagati per cercare di essere neutrali, non per aiutare. Loro devono essere neutrali perché sono pagati, perché il loro rating lo comprano dei fondi e non lo comprano solo degli speculatori, lo comprano dei fondi pensione dei ferrovieri della Norvegia, lo prendono i fondi pensione dei dipendenti postali della Francia e così via. E quindi vogliono, vogliono assolutamente che ci sia un distacco e loro cercano di farlo, indipendentemente dalle pressioni politiche, perché chiaramente c'è chiunque, di vari politici, di varie nazioni, cerca di tirarli da una parte all'altra perché non ci siano declassamenti, cosa comporta? Togli la camera come abbiamo fatto ieri, così andiamo solo con voce e proviamo a ottimizzare. Ho messo anche il microfono più semplice, così togli anche quello. Quindi stavo dicendo che appunto sono pagati da dei fondi queste agenzie per dare un giudizio neutrale e quindi non devono essere partigiani, è importante questo, perché questi gli tirano la giacchetta, glielo tirano i politici, glielo tirano anche… Infatti è quello che dico io, cioè devono fare il loro mestiere e poi nei commenti possono anche scrivere che magari, come dire, la situazione può essere anche temporanea, non so se riesco a spiegarvi, cioè che si può pensare che questa sia una situazione momentanea e poi magari ci sia un recovery, questo è l'outlook alla fine e l'outlook lo possono anche definire bene, cioè io capisco di più un rating tagliato con un outlook magari che nel medio termine dice però ci può essere un recovery che non, come ha fatto Standard & Poor, un rating intatto ma l'outlook negativo, cioè voglio dire che poi ero uguale a prima, però forse l'outlook può anche essere in miglioramento per l'Italia a livello della situazione rispetto a quella attuale, di certo insomma la situazione è complessa, però guarda il mercato come dicevo io, vedi il mercato cosa ha fatto? Ha avuto una prima reazione molto negativa e adesso addirittura si è portato in territorio positivo con le due banche, le vedete qua, che stanno facendo massimi relativi ovviamente, questo non è male, insomma il mercato reagisce così e va benissimo, però quello che dice Eugenio è molto vero, intendo dire personalmente non mi piacerebbe proprio fare il giudice alla maniera di Fitch o alla maniera di Standard & Poor's, lascio ad altri, molto ben pagati per questo, il privilegio di fare questo meraviglioso mestiere, però devo dire che effettivamente se uno si aspetta, voglio dire tu hai citato tanti fondi, io potrei citarti quello delle vedove scozzesi, un fondo famosissimo, lo devo dire, e questi fondi acquistano i report di queste agenzie per poi investire i patrimoni accumulati negli anni di tanti lavoratori, di soldati risparmi e quindi hanno assolutamente bisogno che il giudizio non sia, come dire, buonista, ma che sia in qualche modo realista, no? Allora qualcuno qui nelle varie chat ci ha detto, hanno detto solo che il re è nudo e effettivamente questo è alla fine. Eh sì, ma poi tra l'altro non si può parlare di prospettive di miglioramento futuro perché non sappiamo nemmeno stimare i danni, loro solo hanno visto… No, no, dico questo e cioè che è chiaro che adesso, come dire, noi abbiamo il massimo del pasticcio nel contesto attuale, che poi si può riverberare nel tempo, però questo bisogna dirlo, bisogna spiegarlo, allora uno poi può prendere le sue decisioni di conseguenza, però il fatto che il no, cioè voglio dire, è difficile accettare il giudizio sul fatto che il nostro debito sia rimasto uguale a prima, la qualità del nostro debito con un rapporto debito PIL che supererà assolutamente il 150%, come si fa perché è uguale a prima? Cioè è veramente difficile, come si fa ad accettare che uno ti dica che tutto è uguale a prima? Questo è impossibile, no? Certamente, ma non solo loro vanno anche a vedere la storia, la storia più lontana e la storia più recente e la storia recente è che malgrado l'aiuto della BCE e quindi uno spread comunque favorevole, certo peggio di quello rispetto della Spagna, che è un debito però più basso, ma comunque favorevole, ricordiamo che i bond italiani rendono tuttora, adesso tuttora devo vedere, ma dovrebbe essere ancora così, rendono meno dei bond americani, che dal punto di vista economico è una castroneria, cioè non ha senso, non avrebbe senso, però grazie alla BCE abbiamo dei bond, quindi un costo del debito che è molto basso, solo che il problema è che il debito è alto e la comunità europea ce l'ha chiesto in tutti i modi, ha riducito il debito, visto che comunque noi riusciamo a comprare un po' di vostro, riducetelo, riducetelo. Lo spread, il nostro rendimento è salito all'1,85 e lo spread quindi è diciamo così a 231 basis point, ecco qua, questa è la fotografia di stamattina, ieri eravamo all'1,75, quindi siamo saliti praticamente di 11 centesimi di rendimento, che non è poco, è in un giorno solo. Non è poco, ma ricordiamoci che sale perché tanto dall'altra parte c'è un valore negativo, quindi non dobbiamo vedere lo spread come un fatto che paghiamo di più, la Germania viene pagata per emettere debito sostanzialmente, ecco quindi c'è questa stortura, quindi quando si vede lo spread a 2 bisognerebbe ricordare che quella parte del 2 è legata al fatto che c'è il meno 0,4 sulla parte tedesca. Io prego di dire che quello che conta è quanto noi paghiamo di interessi, questo è il costo che c'è, devo ricordare a prescindere da tutto che noi siamo stati anche a meno 0,90 di rendimento qualche mese fa, ma in realtà noi non abbiamo praticamente mai pagato così poco di interesse, storicamente abbiamo sempre pagato di più evidentemente, quindi oggi stiamo comunque meglio che in passato per certi versi. Certo la situazione si fa difficile perché comunque gli interessi sul debito pregresso, soprattutto quelli sul debito pregresso, ogni anno trasformano il nostro avanzo primario, perché noi credo che malcontati sia 20 anni o più che facciamo avanzo primario, vuol dire che lo Stato costa meno di quello che in Troita trattasse imposte dirette, indirette e quant'altro. Poi però ci sono gli interessi sul debito e quindi quel dato lì si trasforma in un disavanzo e ogni anno bisogna fare una finanziaria correttiva per mettere le cose a posto, questo è più o meno il quadro della situazione e questo è quello che è espresso bene da questi rendimenti. Ecco ti faccio notare però dal punto di vista delle pagelle, adesso io se vuoi posso anche andare perché ho la possibilità di mostrarti questa cosa Eugenio, se io vado a farti vedere il rating, noi potremmo scoprire che il rating di paesi come il Portogallo o la Spagna hanno un rating più basso del nostro, eppure a livello di spread pagano un pegno minore e questo ricordiamole dovuto al fatto che ciò che fa paura dell'Italia non è l'effetto potenziale insolvenza, ma è il rischio della ridenominazione del debito. Questo è un fattore che non bisogna mai dimenticare, perché se noi badassimo al solo CDS, tutti sanno cosa sono il CDS, tradotto in termini pratici per capirci, sono le assicurazioni contro il rischio di insolvenza della controparte, allora il rischio CDS sul nostro paese, quello che riguarda solo la possibilità che l'Italia sia insolvente, è un costo più contenuto di quello del Portogallo. Quello che invece rende più costoso il tutto è quel CDS che assicura anche contro le famose CACS, cioè le clausole aggiunte, se non ricordo male nel 2015, ora correggimi Eugenio se mi sbaglio, ma mi pare da quelle parti, che dicono per esempio che se uno Stato trova un accordo con almeno il 62 terzi degli investitori, potrebbe ridenominare il debito anche in una valuta diversa, potrebbe togliere le cedole, cancellarne una, posporle, cambiarle, cioè può fare delle cose per cui l'investitore, specie quello internazionale, non sarebbe molto contento di avere prestato Euro e vedersi tornare Euro lire, per capirci, ok, e allora contro questo rischio si assicura, questo rischio è molto più costoso, dipende anche dalla situazione politica, perché? Perché lo spread era molto più alto quando al governo c'era un'area cosiddetta sovranista che faceva temere gli investitori che le possibilità che l'Italia decidesse di uscire dall'Euro o potesse essere mandata fuori dall'Euro, diventavano più alte e quindi lo spread cresceva. Lo spread è diminuito quando al governo è andato un partito che dichiaratamente non è anti-europeista come il PD, diciamo così, perché questa è la situazione a prescindere dal colore politico di ognuno di noi, di cui va presa atto e di cui va presa considerazione, se il governo dovesse cadere e si dovesse andare a nuove elezioni, dove stanti i sondaggi attuali presumibilmente vincerebbe la destra definita per antonomasia sovranista nel nostro paese, evidentemente ti garantisco che lo spread immediatamente schizzerebbe verso l'alto a prescindere, perché il rischio di avere un governo sovranista sarebbe prezzato immediatamente sul nostro titolo di Stato. Questo, bisogna dirlo, è doveroso, perché onestamente è la situazione che ci rende più vulnerabili da questo punto di vista, è proprio questo, è il rischio che noi per qualche motivo potessimo uscire dall'Euro, fondamentalmente questo è il rischio, o che potessimo pagare il debito ridenominato, in una valuta differente. Questo è il vero rischio che vale almeno ulteriori 100, perché guardate il Portogallo che ha un rating praticamente come il nostro, il Portogallo lo si vede, se andiamo a visualizzarlo in termini di spread, se andiamo a valorizzarlo in termini di spread potrete vedere che il Portogallo ha uno spread di 165 basis point, quindi c'è una certa differenza, ci sono 80 punti base di differenza con noi. Evidentemente questo è un fattore significativo. Cosa dice Eugenio? Mi piacerebbe vedere anche la Grecia, che dovrebbe essere più bassa di noi, ma non tantissimo. Allora qui la Grecia io non ce l'ho, a livello di rating invece penso di averla, a livello di rating ovviamente la Grecia è molto pesa, evidentemente. Sarebbe interessante vedere qual è lo spread. Allora vediamo qual è la questione, come fanno i governi a ridurre il debito? O incominciano a pagarlo, oppure il vecchio sistema è quello dell'inflazione, che di fatto abbatte il valore del debito. Diciamo che l'inflazione abbatte l'incidenza degli interessi, perché gli interessi, cioè voglio dire, ecco questa cosa… Non gli interessi… No, ti aiuto con questo concetto. Negli anni 90 io feci un mutuo per una casa, gli interessi che pagavo su quel mutuo erano il 13%, allora era proprio l'inizio degli anni 90, facevo l'onesto lavoratore dipendente e non ho mai avuto problemi a saldare una rata, nonostante degli interessi che oggi definiremmo mostruosi. Credo che oggi, come oggi, a prescindere dal coronavirus, una persona paragonabile a quel ragazzo che io ero allora e che aveva uno stipendio, riportato ad oggi, dove gli interessi possono essere tasso fisso anche meno dell'1%, attualmente, però si fa comunque più fatica a pagare. Perché? Perché l'inflazione, in ogni caso, il debito dopo un po' lo trasforma in qualcosa di piccolo, perché tutti i costi avanzano, tutto il debito rimane quello e i tuoi interessi rimangono quelli, evidentemente, no? Ok, prego Ingenio, così con questa premessa forse si può capire un po' meglio perché l'inflazione aiuta il debito in generale? Aiuta il debito, perché fatto stock, chiamiamo 100 mila, chiamiamo 100 mila denominati in quello che volete voi il debito, si aumenta l'inflazione e io devo restituire 100 mila, 100 mila di una moneta che decidete voi fra 10 anni, ovviamente quei 100 mila con l'aumentare dell'inflazione saranno sempre meno, si aumenta l'inflazione. E questo è un modo per ridurre la difficoltà del debito. Chiaro, dovrò pagare di più interessi, ma se me la gioco bene, alla fine mi costa meno. Passare alla lira è esattamente la stessa cosa, è esattamente la stessa cosa. Il problema vuol dire iperinflazione in Italia, quindi guardatevi, non dico il Venezuela, guardate com'è l'Argentina, se si passa la lira studiatevi cosa accade in Argentina, possiamo anche dividere per due quello che sta accadendo in Argentina o per tre, quello accadrebbe se si passasse la lira. Se siete pronti a questo, bene, allora sostenete tutti quelli che vogliono passare alla lira e poi che la nostra banca centrale si compra il debito e poi vediamo come va a finire. Io spero di rimanere attaccato all'euro. Io uso dire questo, che per noi entrare nell'euro qualche anno fa è stato come avere accesso a un tenore di vita di una classe sociale più elevata, che era quella tedesca. L'euro è stato di sentire molto bene. Poi come paese Italia abbiamo finito le riserve, tra virgolette, e a quel punto però nessuno voleva più rinunciare a quel tenore di vita a cui ci eravamo abituati. Adesso non vorrei sembrare vecchio, un po' forse lo sono, ma io ricordo per esempio che negli anni 70, quando nella via dove abitavo a Milano si vedeva una Mercedes di un certo livello parcheggiata, si diceva cavoli ci deve essere qualche personalità, le Mercedes non erano auto che si vedevano tanto di frequente. Dopo è stato possibile, soprattutto con l'avvento dell'euro, è stato possibile per molti comprare le Mercedes dove l'impossibilità di pagare l'auto in un'unica soluzione si è trasformata in un pagherone il tempo. Tutto questo benessere che ci è arrivato, di cui questa cosa è solo un piccolo esempio, diciamo così che in qualche modo l'abbiamo pagato con la crescita esponenziale del debito pubblico per rimanere agganciati a quel treno a cui nessuno voleva rinunciare. Oggi noi abbiamo un debito grande e una situazione difficile e gli altri paesi ci dicono, senti hai fatto il ricco per un po', ora rimetti i conti a posto e noi abbiamo due strade, o lacrime e sangue per un po' di tempo, oppure come dicevi tu, se usciamo dalla moneta unica, tutto quel surplus che ci siamo presi negli ultimi vent'anni restituirlo tutto d'un botto insieme, non so se mi spiego, questo vorrebbe dire probabilmente che… Sì, è un po' di tempo, certo. Esattamente. Vuol dire la benzina che raddoppia, giusto per dire qualcosa. Raddoppia, aspetta però, perché poi bisogna stare attenti a non fare populismi, perché se anche raddoppiasse la benzina, adesso parliamo di pre-situazione del crollo del prezzo del petrolio, ma la materia prima era a 50 centesimi, quindi se raddoppia la benzina alla pompa sono 50 centesimi in più, perché il resto sono accise, questo bisogna dirlo, che se no si cade in faccia di populismo. Vorrei anche dire un'altra cosa, che se improvvisamente molti convengono che probabilmente se l'Italia uscisse dall'Euro ci sarebbe un immediato, come dire, crollo del valore della nostra nuova moneta di circa il 30% rispetto alla moneta unica, magari all'inizio sarebbe anche un po' di più, ma supponiamo che il 30%, sai, se oggi uno ha qualche dubbio tra Ferrari e Porsche, quando il prezzo di una Ferrari è percepito il 30% meno caro, probabilmente i dubbi se li levano tutti e compran tutti le Ferrari e quindi questo fa capire quanto noi potremmo esportare in più, perché la qualità non ci manca e questo tra l'altro è il modo in cui funzionavamo prima, guarda che Amato svalutò la lira mi pare del 25%, cioè quella mossa lì diede all'Italia un bel po' di salute per un po' di tempo, evidentemente l'italiano che andava in Germania percepiva dei prezzi e un costo della vita in Germania negli anni 90 assolutamente insostenibile, ma gli italiani che rimanevano in Italia continuavano a fare il loro mestiere, io quando ci fu questa cosa già facevo l'imprenditore e avevo già traslato l'attività da imprenditore e devo dire che mi sono accorto poco di questa svalutazione della lira all'ora, evidentemente l'ho vissuta di più studiata dopo che non per quello che era stato il mio percepito prima, in tutta onestà, comunque insomma queste sono valutazioni che poi possono lasciare anche il tempo che trovano, torniamo ai mercati perché ci sono un paio di cose da vedere che sono interessanti secondo me, allora io andrei a vedere prima di tutto il petrolio che continua a salire, adesso lo mettiamo qua, mettiamo il grafico giornaliero perché ieri il petrolio ha toccato i 10 dollari ed è rimbalzato con un certo vigore a 14 e rotti, fino a 14 e 50 è arrivato nella sessione attuale. Questa è la situazione che noi abbiamo sul petrolio, ma una cosa importante vorrei dirla, visto che questa sera parlerà la Fed e domani parlerà la Christine Lagarde, forse varrebbe la pena dare un'occhiata all'eurodollaro, che dimostra però, questo è il grafico giornaliero, nelle ultime sedute è un genio di essersi particolarmente seduto di volatilità, questo è un grafico dell'eurodollaro da inizio anno, noi abbiamo avuto un picco tra febbraio e marzo, sopra e sotto e poi siamo tornati a sederci con una volatilità che se non somiglia a quella di inizio anno, siamo lì. Tu che idea hai sul cambio euro-dollaro? Sì, io non metto condivisione lo schermo perché rischio che scenda poi la linea, quindi ve lo racconto, ma se noi facessimo un tentativo, cioè senza la camera, se no se mai ritorni e facciamo solo. Sì, sì, quello schermo funziona. Noi siamo qua, ti supportiamo tutti Eugenio, guarda, facciamo il tifo e poi ti fai la linea di telecom però, perché poi cerchiamo di capire, io adesso lo vedo il tuo… Sì, sì, in base che c'è la linea. Perfetto, perfetto, vai avanti. Ok, vai. Allora, questa è la… Niente, porca miseria Stefano, ce lo siamo fumato così. Davide, senti, facciamo una cosa, io ho delle cose urgenti e importanti da segnalare, tante persone mi chiedono un aggiornamento che da qualche giorno stiamo facendo, quindi se Eugenio è d'accordo, intanto che ripristina la linea vi faccio tutti i grafici. Ci sono e posso raccontare. Allora, aspetta un attimo Eugenio, è partito Stefano che sta facendo vedere dei grafici. Adesso arriviamo da te Eugenio. Sì, sì. Vai Stefano. Sì, dicevo, allora, quello che è successo in questi giorni, un po' a dispetto di quello che appare dagli indici, questo qui è il Nasdaq, ne parleremo fra un istante, è che Netflix per prima ha iniziato un ritracciamento importante, in particolare ieri e queste aziende, facciamo attenzione perché spesso e volentieri valgono più degli indici, o meglio da sole determinano l'andamento degli indici, non Netflix in particolare, ma vi ricordate la lotta con i massimi storici? Bene, pare che per il momento sia stata rimandata, se non addirittura persa. Questo non ci preoccupa, però è un segnale importante. Guardate Amazon, attenzione, sì, è vero, è ferma là in alto, massimi storici, però con un mercato che inizia a tentare di nuovo un attacco ai massimi di marzo, ecco che Amazon invece ritraccia. Allora, questi sono i famosi market internals, cioè può darsi che ci sia qualcosa che si sta muovendo dietro le quinte di quello che apparentemente il Nasdaq, ad esempio, non ci sta mostrando, non ci sta mostrando neanche l'S&P 500, che vedete si avvicina ai massimi precedenti e lotta con gli stessi, non ci stanno mostrando neanche gli indici europei. Quindi credo che l'urgenza di segnalare questa cosa all'apertura di due giornate importantissime, BCE e Fed sicuramente avranno un impatto sui mercati, il fatto che i veri e propri leader che hanno trascinato la rimonta e soprattutto tutto trascinato un po' al rialzo, tutto inizino a fare dei ritracciamenti, ci preoccupa un pochino. Ripeto, stiamo parlando semplicemente di Amazon e Netflix, ma sono quelle che avevano raggiunto nuovi massimi e nel caso di Netflix avevano anche superato i massimi storici, per poi proprio nella giornata di ieri perderli. Nulla di grave, rimaniamo attaccati ai 9 mila di Nasdaq come riferimento importantissimo, ne parlavamo anche ieri con Tony Ciolli-Piviani e questo sarà il vero spartiacque, perché? Perché se si supereranno eventualmente i 9 mila sì che la strada verso i massimi storici sarà a quel punto aperta, ma per ora vedete che la resistenza è molto dura, perché dopo averle raggiunto una prima volta, essere tornati indietro, era ripartito verso l'alto fregando tanti short, perché tanta gente qui a livello istituzionale soprattutto aveva iniziato a liquidare posizioni e ci sono state anche dichiarazioni di persone che sono tornate short a livello, ripeto di nuovo, di hedge fund e di istituzioni, sono stati un po' fregati dal rimbalzo che tutti, anche a livello poi più di trading retail, ha colto un po' di sorpresa, nel senso che poteva darsi che si proseguisse verso il basso, invece è ripartito verso l'alto, ma dicevamo già ieri attenzione perché l'intensità della risalita è un pelino meno forte di quella della discesa, nulla di grave, ma ripeto è poco importante avere un'opinione adesso, prima della fede e della BCE, l'importante è vedere che qualcosa si sta muovendo dietro le quinte. Andiamo con l'S&P 500, lui vedete adesso è più tonico del Nasdaq, perché addirittura ha superato, anche se di qualche tic, i massimi precedenti, cioè quelli di aprile, è lì che lotta con gli stessi proprio in questo momento mentre parliamo e di nuovo aspettiamo Fed e BCE per vedere che cosa faranno, anche se ricordiamo i massimi di marzo sull'S&P 500 sono ancora lontani e quello è il livello e il vero spartiacque rispetto a una conferma di recupero. Andiamo a vedere il DAX, vedete anche qui rispetto, ripeto, a un Nasdaq e ad un Amazon che mostrano qualche dubbio perlomeno, il DAX come l'S&P si appoggia ai massimi precedenti, è vero che anche qui i massimi di marzo sono ancora lontani e soprattutto in Europa abbiamo questo mega gap da colmare, quindi è assolutamente di nuovo vediamo che cosa succede in questi due giorni con la BCE, però vedete che l'Europa è quasi più positiva nei limiti, perché non è una grande positività di quello che poi abbiamo visto. Stessa cosa per l'Eurostox, se prendete come riferimento il gap, poi i massimi di marzo sono ancora lontani, ecco tra Stox e DAX si vede che il DAX è più vicino al gap di quello che invece non è l'Eurostox. Arriviamo poi al nostro Fuzzimiba, anche lui, un rialzo ma sempre con grandi dubbi, perché è vero che numericamente oggi facciamo più 1,12%, ma è anche vero che qui c'è un doji perfetto dopo una candela come ieri che è all'interno di una congestione per carità, comunque una shooting star, quindi il valore che ha una shooting star dentro una congestione è minimo, ma è per dire che non c'è poi quella grande convinzione. Anche qui il gap è ancora più ampio, è ancora lontano e poi i massimi di marzo, ripeto, sono qua, quindi c'è ancora tanta distanza da recuperare. Andiamo poi all'Ibex che vi ricordate ha addirittura due gap, perché ce n'è uno qui, che aveva tentato di iniziare a chiudere proprio sui massimi del recupero, poi ha iniziato il ritracciamento, adesso sta recuperando, oggi l'Ibex fa solo più 0,33%, quindi veramente molto poco, nella giornata che ha seguito il piano Spagna di uscita dal lockdown, un piano in quattro fasi che addirittura si sta ipotizzando di riprendere in Italia, perché ieri c'erano i titoli sul Corriere della Sera, ad esempio l'esempio della Spagna, qui saranno quattro fasi a partire da lunedì, la fase 0, 1, 2 e 3, divise per regioni e poi ci sono delle metriche oggettive a livello sanitario con cui il Ministero Sanità permetterà ad una regione di essere promossa, se queste metriche saranno di contagi e quant'altro, di essere promossa alla fase successiva, quindi se tutto va bene le quattro fasi si concluderanno a fine giugno e si tornerà a quella che viene chiamata la nuova normalità, nelle quattro fasi si parla di piano piano andare a riaprire ristoranti e quant'altro, ad esempio già da lunedì si potrà andare al ristorante su appuntamento, cioè tu chiami il ristoratore, se sei da solo e ti riserva al tavolo puoi andare al ristorante, questo per far capire le varie fasi, ci sono le isole dove ci sono casi molto bassi e che non stanno incrementando, che ad esempio saranno subito promosse alla fase 2, laddove ad esempio Madrid e Barcellona saranno alla fase 0 e così via, questo piano è ambizioso, sicuramente un piano di uscita a scalare diviso per regioni che ripeto ieri stesso veniva proposto come esempio anche in Italia, ma Libes non reagisce, questo è il vero problema, perché vedete che è un pochino di fermo, forse anche lui aspetta la BCE e la Fed, ma c'è un gap e un altro gap che ancora pesano tantissimo. Ripeto, io penso che dovremmo guardando soprattutto il Nasdaq e i 9000, vedere che cosa succederà in questi due giorni importantissimi e poi andare a vedere sui singoli titoli quello che è la reazione a queste notizie, non solo BC e Fed, ma anche uscita a lockdown. Volevo segnalarvi Walt Disney perché era una di quelle che seguiamo da sempre, vi ricordate da più di un anno dopo Disney Plus avevamo segnalato come avrebbe fatto benissimo, il Covid era colpita tanto per il discorso parchi di divertimento, aveva fatto un po' di recupero, però vedete che è ancora un pochino pesante, ha una situazione più simile a quella degli indici europei. Attenzione anche a Facebook e Google, vedete anche loro ieri hanno avuto un importante ripensamento, quindi e perché? Perché chiaramente sono dipendenti dalle spese pubblicitarie e malgrado l'uscita del lockdown non vedono per ora un riaprirsi della spesa in questo senso. Anche Microsoft che aveva fatto benissimo sta in qualche modo titubando, insomma Davide tu sai che questi titoli sono quelli che più di tutti trascinano non solo il Nasdaq ma ormai tutti gli indici, sia a livello statunitense sia a livello europeo e mi faceva piacere segnalare questa cosa. Ripeto, vediamo come va oggi, vediamo come va domani, a me quello che preoccupa è il fatto che un'uscita dal lockdown così apparentemente ben programmata come quella che abbiamo qui da noi, vediamo se c'è ancora il titolo sul Corriere della Sera, ecco questa cosa qui sicuramente non ha stata presa come una buona notizia ai mercati. Allora è vero quello che dicevi del rating di Moody's, ma anche i mercati non stanno dando dei rating intanto buoni alle prospettive, soprattutto qui in Spagna e in Italia. Voi cosa ne pensate di questo? Ah, io penso che il mercato, e l'ho detto sin da subito, è sovrano e il mercato darwinianamente ha deciso che i dati più grossi sono in Spagna e in Italia, su questo è un dato di fatto. Poi devo dirti che mi scrivono su Whatsapp e quoto e aggiungo, hai detto prima una cosa che è anche simpatica per certi versi, hai detto se sei da solo e vai al ristorante, prenoti, ti prendono e ci ha scritto subito Vittorio dicendo sì, vabbè, ma chi ci va al ristorante da solo? No, andare con la tua famiglia, è chiaro, non da solo. Tra l'altro nel frattempo Stefano riprendo il… Sì, devo solo far vedere quattro fasi, vedi, allora c'è una fase 0 che è quella dove siamo adesso e da lunedì, da sabato si potrà fare il giretto di un'ora per tutti, non più di un chilometro da casa, la fase 1, la fase 2 è intermedia perché ci sono già riaperture e le isole ad esempio ripartono, alcune isole già da questa fase, la fase 3 sarà quella avanzata, quasi normalità e se tutto va bene fine giugno, inizio luglio saremo alla nuova normalità, ogni fase dura due settimane, ogni regione può essere promossa alla fase successiva, però ha fatto presente appunto il Presidente del governo Sanchez che da una fase si può anche retrocedere ad una fase precedente se ovviamente le metriche sanitarie di quella regione dovessero peggiorare, è un piano ripeto che idealmente… Mi viene una domanda Stefano immediata, se la situazione è gestita per regione, immagino un po' come si potrebbe fare qua in Italia, però ci sono regioni con, come dire, in fasi diverse, come vengono gestiti gli spostamenti tra regioni, sono proibiti? No, non può, come da noi, sono proibiti, ok, il che vuol dire comunque… Attenzione perché sono le comunità autonome, quindi qua c'è una specie di… Certo, certo, il che vuol dire che per l'economia questa è una cosa… Se volete vi do anche i marcatori che ti permetteranno sul giudizio del Ministero della Sanità di cambiare fase, allora capacità strategica e posti letto nel guidato intensivo, cioè nella terapia intensiva, situazione epidemiologica, cioè le dinagnosi, la tassa di contagio e altri indicatori, compimento delle prevenzioni e protezioni collettive sul lavoro, sul commercio e sul trasporto pubblico e valutazione dei dati di mobilità e socio-economici. Cioè ci sono questi marcatori oggettivi che a giudizio del Ministero della Sanità permetteranno a ogni regione di avanzare alla fase successiva. Ripeto, ci sono due isole, alle Balearie e alle Canarie che sono già e partono già dalla fase 2, quindi è abbastanza dinamico, si può essere promossi, si può essere bocciati e tutti quanti poi, come si chiaramente spera, torneranno alla nuova normalità, dove verranno mantenute ovviamente le misure di igiene, di distanziamento dei due metri e quelle cose lì. Le unità territoriali che applicheranno queste sono ovviamente le province e le isole, come è giusto che sia. Queste sono le date, come vedi, ben comunicate dal governo ai cittadini. In questo, ecco, devo dire che è qualcosa che rassicura, cioè è tutto col sé, col mal degli indicatori, però uno dice, vabbè, perlomeno so dove sono, no? Ad esempio, ti dicevo prima, Formentera, Elierro e La Graziosa sono tutte le isole delle Canarie e delle Balearie che partono già da una fase avanzata, perché hanno pochissimi casi e non incrementano. Questo è tutto da Madrid. Senti, allora, tornerai un attimo da Eugenio per commentare l'euro-dollaro. Poi, dopo, io vorrei aggiungere alcune cose a quello che ha detto Stefano che mi sembrano di una certa importanza. Allora, Stefano, grazie per la condivisione sia dei, diciamo, sia dei tuoi, come si può dire, grafici, sia della situazione più in generale. Allora, Eugenio, questo è il grafico dell'euro-dollaro, stavi cercando di fare il commento, abbiamo provato la condivisione e non ce la facciamo, andiamo con questo e poi facciamo il grafico di Telecom, perché ci deve essere una spiegazione se poi Telecom non risale, evidentemente. Eh sì, io sono poi a rialzo su Telecom, l'avevo già detto, con le opzioni. Ci stai comprendo rispetto alla DSL, lo sappiamo, l'abbiamo già detto. Esatto, intanto ho fatto il test di velocità della mia linea, sono 0,7 in upload e 4,8 in download, che non è malaccio, è la stabilità il problema. Vabbè, penso. Io ho fatto anche il test, intanto che voi parlavate. Al di là di questo, volevo anche dire una cosa, delle borse italiane e spagnola, non è solo la difficoltà, perché il Belgio ha un numero di decessi per abitante peggiore, della Spagna e dell'Italia. La questione è anche l'instabilità politica, la debolezza economica e il fatto che la BCE, la BCE e i governi e soprattutto i governi europei, non hanno ancora stabilito bene come attuare un piano di aiuto, che dovrebbe essere molto più forte per l'Italia, per la Spagna e a questo punto giunga anche il Belgio. Ma il Belgio, io non credo che la borsa del Belgio abbia queste difficoltà, non sono andata a vederlo, ma lo dico così a intuito. Detto questo, passiamo all'euro-dollar. Intanto i mercati sono in fase di attesa delle due decisioni della Fed e della BCE, ma non so cosa possano decidere d'altro più di questo. secondo me il dato più importante è invece quello atteso è il PIL americano e quello è veramente il dato, oggi 14-30, quello è il dato che il market mover secondo me è fondamentale, perché le banche centrali più di tanto non possono dire oltre a quello che hanno già detto. Passando l'euro-dollaro, che è anche l'euro-dollaro come i bond, anche il T-note e il Bund sono in attesa delle decisioni delle banche centrali, ma non credo che diranno niente di nuovo, invece il dollaro, ve lo descrivo dal punto di vista ciclico, dal punto di vista ciclico è partito un ciclo nuovo trimestrale o intermedio più correttamente il 19 di febbraio, poi ha fatto esattamente il 20 di marzo, un mese dopo, un sottociclo mensile, alle volte diviso i sottocicli mensili e le volte in cicli... Siamo qua, ok? Proprio ha fatto un minimo lì, poi ha fatto un minimo proprio recentemente, il 24, allora segnatevi, 19 febbraio, 20 di marzo, 24 di aprile, vedete la cadenza di un mese, non è che l'orologio ciclico è sempre così preciso, alle volte è preciso, alle volte si scompiglia e alle volte si allungano, si accorciano, stavolta sembra preciso, quindi 24 di aprile, nuovo minimo, a questo punto possiamo avere una fase, io penso più di stagnazione, cioè senza grande direzionalità, questa settimana è al limite e direi anche la prossima probabilmente, e poi manca una parte correttiva per andare a chiudere il ciclo, per andare a chiudere il ciclo nella seconda metà di maggio, non mi aspetto onestamente, in base alle forze che leggo, non mi aspetto dei minimi inferiori, al limite che si va da ritestare il minimo intorno a 1,0640, 1,0630, al limite, ma non mi aspetto grandi discese. Dopo, ecco, con la partenza, il nuovo trimestrale, io monitorerò anche le tempistiche, i prezzi, ma io mi metterò a rialzo sull'erodolo, anzi sono già al rialzo, ma con piccole posizioni, aumenterò le posizioni, soprattutto in opzioni, quando vedrò che sta finendo o quando ho capito che è finito questo ciclo in carmedio, perché mi aspetto poi un recupero. Ho capito, perfetto, bene, grazie mille. Dalla seconda metà di maggio, quindi da fine maggio in poi, ecco, dalla seconda metà di maggio mi aspetto un recupero. Diciamo che, vorrei dirti che nel frattempo ho fatto anche uno speed test, diciamo che sto trasmettendo, scaricando dati, insomma, in download ho 80 mega ulteriori e in upload 89. Adesso, se vuoi, faccio consulenza su dove andare, no, ma facciamo, guardiamo te, cioè, perché poi bisogna capire, no, che cosa succede, e sto streamando, sto facendo il webinar, insomma, quindi la banda la sto già utilizzando, bisogna spiegarlo questo grafico, no, perché ci si sarebbe aspettati che un titolo che fa telecomunicazioni, forse stra abusato in questo periodo, potesse essere un po' come Netflix, potesse essere un po' come Amazon, invece questo grafico ci racconta una cosa diversa, secondo te perché, Eugenio? Eh, ci racconta una cosa diversa, uno per il test che io ho fatto, tu mi hai stracciato, e l'altro per i concorrenti, evidentemente, forse probabilmente i concorrenti si stanno muovendo meglio, cioè telecom ha un'inerzia ancora da mentalità pubblica e quindi dovrebbe muoversi velocemente, vista la situazione attuale, invece si sta muovendo probabilmente molto lentamente e poi sappiamo che c'è ancora in atto una battaglia per la guida di telecom che non è ancora chiara e io penso che il mercato tema, tema, non una nazionalizzazione, ma qualcosa di simile, cioè che lo Stato entri a piene mani in questo titolo, considerando che può essere considerato strategico per l'Italia e sappiamo che lo Stato di certo non è il massimo dell'efficienza, cioè lo Stato va bene come azionista, ma deve star zitto, deve star zitto e deve star di tranquillo. Però devo dire che non è che io veda lo Stato adesso nelle condizioni di dire, visto che fa fatica aiutare gli imprenditori, tale e questo, non mi sembra proprio che lo Stato sia orientato a ricomprarsi la telecom che ha buttato sul mercato vent'anni fa, insomma, mi sembra che lo possa dichiarare a sé strategico, ok, lo è a tutti gli effetti, che possa ricomprarselo, questa è un'altra faccenda. Azionista di maggioranza, ma maggioranza proprio sopra il 50%, questo potrebbe fare… Comunque ha la golden share con cui può mettere in qualsiasi situazione, il che è già sufficiente. Allora, vorrei dire queste cose che sono importanti, mi sembra che siano abbastanza significative, dunque riguardo a quello che ha detto Stefano poco fa e magari rincoivolgerei anche lui nel discorso. Anzitutto diciamo che queste mosse sono forse più chiare di quelle che ci sono in Italia, non si finisce mai di imparare e in effetti non è che altri possano essere più bravi, magari in certe cose possiamo avere dei migliori noi, se un'idea è buona si può sempre, come dire, copiare, in questi casi nessuno si offende o ti fa la nota sul registro evidentemente. E poi vorrei dire però che comunque la difficoltà prorogata nel tempo di muoversi tra province, sarebbero l'equivalente delle nostre regioni, evidentemente è comunque molto recessivo dal punto di vista della congiuntura economica. Vorrei dire anche questa cosa, che questa mattina non so chi di voi ha ascoltato il giornale radio, a proposito lo dico a tutti, se vi può fare piacere, questa settimana ogni tanto mi succede, sono tutti i giorni alle 17.45 chiamato a un commento di un minuto sul GR1 Economia Radio Rai 1, quindi dura un minuto e rispondo alle domande dei giornalisti della redazione economica, mi capita sovente di collaborare in questo senso con Radio Rai, è sempre un grande orgoglio, se questa sera sarete presenti e vorrete sentirmi mi farà molto piacere. Detto questo diciamo che, come dire, stamattina al GR1 sentivo, credo il responsabile che raduna il capo dell'associazione di tutti quelli che fanno il trasporto pubblico in Italia, che diceva praticamente che è impossibile rispettare le richieste del governo riguardo al trasporto pubblico, cioè succederebbe secondo lui che la capacità di trasporto si ridurrebbe a meno di un quarto e quindi non c'è possibilità di portare tutte le persone che dovrebbero viaggiare e quindi chiedeva qualcosa di diverso, perché dice che sì, un po' si possono aumentare diciamo il numero dei mezzi, ma per quelli che ci sono, quelli nuovi ci vorrebbe molto tempo per commissionarli e poi averli a disposizione e quindi non è praticabile e lui stimolava l'idea dello smart working per chi può farlo, vorrei dire che molti di quelli che fanno smart working hanno scoperto che si può fare smart working, allora vorrei dire che io rilancio qui, visto che i problemi stanno venendo al pettine e sono di due nature, una cosa che ho già detto in più occasioni. Allora, qui si capisce già che il problema sarà la crisi dei consumi, il dato che ieri ha massacrato un pochino la borsa americana dopo alcuni giorni che le cose andavano bene, Stefano i tuoi grafici non mentono, hanno dato un segnale abbastanza forte con la seduta di ieri, è stato il dato sulla fiducia dei consumatori negli Stati Uniti, cioè il mercato messo di fronte a una fiducia dei consumatori più bassa decisamente delle stime, ha detto accidenti e ha fatto un passo indietro, ok? Allora il problema è che la fiducia dei consumatori è un elemento chiave e in Italia uscirà ancora più mortificata che in altri paesi, perché? Perché i consumatori a breve periodo hanno bisogno di avere soldi e da noi lo sappiamo la liquidità è un problema ed è un problema anche il modo con cui vengono erogate le decisioni imprese a livello governativo e poi a breve, a medio e lungo termine dipende dalla fiducia nel sistema e nelle istituzioni e in Italia la fiducia nel sistema e nelle istituzioni è la più bassa d'Europa se condi solo alla Grecia, ok? Quindi evidentemente l'Italia farà più fatica di tutti a riprendersi da questo punto di vista, per cui io rilancio quella cosa Eugenio che dissi più volte che forse l'unico modo sarebbe consentire, mettere in mano delle famiglie dei soldi da spendere velocemente, magari anche di più, io ho sempre suggerito una criptovaluta, uno a uno con l'Euro, in modo che le famiglie potessero spendere di più, ma oggi dirò che scade, se non la spendi ti scadono i soldi, allora ti do un po' di soldi in più, però li devi spendere, così si ripristinerebbe il circolo virtuoso e si ripristinerebbe per lo Stato anche la possibilità di darci quella manata ogni volta che il denaro gira, che è l'IVA, che è la seconda entrata per importanza a livello di imposte per lo Stato, seconda solo all'IRPEF, alle tasse sulle persone fisiche e l'IVA se questo giro virtuoso dell'economia viene meno, crollerà come gettito, quindi lo Stato si troverà poi di fronte alla scelta di cosa fare quando si troverà che le casse pian piano ricevono sempre meno entrate, perché questo è un problema che non può essere sottovalutato nel meglio periodo. Vorrei dire anche un'altra cosa, che se è vero che molta gente può lavorare da casa, si può anche dire che chi lavora da casa è soggetto a minori rischi e allora perché non incentivare in questo caso il lavoro da casa che renderebbe più facile, diciamo le cose per i trasporti, renderebbe più facile la gestione dei posti di lavoro negli uffici e come farlo? Beh, laddove ci sarà un reale risparmio sarà sulla gestione della parte IMS, perché chi lavora da casa è meno soggetto ad ammalarsi, un'indisposizione ti può consentire lo stesso di lavorare da casa, probabilmente al lavoro non saresti andato, ecco allora che lo sconto deve essere sui contributi IMS e quindi per antonomasia andrebbe a vantaggio sia dell'impresa, sia del lavoratore, perché i contributi IMS sono pagati un terzo dal lavoratore, due terzi dalle imprese e a quel punto potrebbe costituire un buono stimolo per entrambe le controparti di attivare se si può lo smart working in maniera più continuativa, almeno per un certo periodo di tempo. Io credo che questa cosa sia da fare assolutamente, perché se non viene fatta secondo come noi ci ritroveremo con una situazione che scoppierà, abbiamo già problemi attualmente con le ZTL, le sospensioni per l'inquinamento e tutto quanto, ma come si può pensare che ci sia un minor uso del trasporto privato in futuro, visto che il car sharing, come più volte ha detto Stefano, sarà qualcosa, diciamo così, che sarà meno utilizzato, a meno che non si trovino formule magiche come quelle di cui parlava lui, tipo le lampade che disinfettano e tutto quanto, però ci vuole tempo, il car sharing verrà meno usato, il trasporto pubblico verrà meno usato, allora o la gente non ci va a lavorare oppure ci va con i mezzi propri e questo creerà un casino inenarrabile e più inquinamento e poi dopo insomma, credo che sia un circolo vizioso che deve essere spezzato, questa è una seconda proposta che dico che secondo me potrebbe essere vantaggiosa per chiunque, non so cosa ne pensiate voi, ma ve lo chiedo, Stefano e Eugenio cosa ne pensate, facciamo prima Eugenio poi Stefani. Sì, allora io intanto spero che te lo lasciano dire su Radio Rai questa cosa, così… Ma assurarsi, lì mi chiedono solo un commento e non sarebbe nemmeno giusto, non è che io… è più giusto che io lo dica nei luoghi dove ho parola, insomma che è questo, poi diciamo non per commentare il mercato, però questo è senz'altro una cosa rilevante, insomma non pensiate, l'altra volta avete anche visto questa trasmissione a street economy vengono anche personalità politiche, ma il problema è che bisogna capirlo quello che dico e non tutti hanno la capacità di comprendere quello che io sto spiegando. Eh sì, nel governo italiano probabilmente molti appena sentono qualcosa che inizia per CRI senza finire valuta, senza la parte finale valuta già sente qualcosa di negativo. Invece la spinta, per quello ti dicevo se lo potessi dire Radio Rai, perché credo che nella popolazione italiana un po' di persone questa cosa la capiscono e con un po' di spinta dal basso e qualcuno che comunque dall'alto la capisce, questa cosa potrebbe passare, perché veramente sono quelle cose semplici con l'aiuto della tecnologia che ci possono dare una grande mano, sarebbe solo una cosa temporanea, chiaramente non per i prossimi n anni, ma diciamo almeno per il prossimo anno, forse anche due, ma almeno per il prossimo anno sarebbe una soluzione eccezionale e a costo praticamente zero, perché la tecnologia blockchain, sì basta un po' di programmazione, un po' di programmatori e un po' di controllo da parte soprattutto immagino della Banca d'Italia e del Ministero dell'Economia, ma sarebbe una cosa a costo bassissimo con degli effetti positivi e la classe cosa win-win, cioè ci sono quasi solo effetti positivi, in questo momento non me ne viene in mente nessuno negativo onestamente, se non ecco l'unico negativo parzialmente è che ci sono anziani che avrebbero difficoltà ad utilizzarlo, ma ci sono i giovani che li aiuterebbero a utilizzare questa tecnologia, anzi ci sarebbero i, come si dice, dei volontari che gli aiuterebbero. Non credo che ci sia un nipote infelice di aiutare la nonna a spendere del denaro, mentre scade. E chi non ha i nipoti, perché magari non li ha, sono sicuro che dei giovani li aiuterebbero molto volentieri e sarebbe anche un modo per unire le persone. Assolutamente sì, cosa ne pensi invece della formula per incentivare lo smart working? Perché effettivamente ci sarebbe un minore utilizzo dei fondi INPS in tante componenti e quindi ci potrebbe stare uno sconto sui contributi per chi decide di fare lo smart working, anche temporaneo, avrebbe imprese e lavoratori a lavorare da casa con un pochino più di soldi in busta paga per il lavoratore, un pochino meno di costo aziendale per l'impresa, però tutti contenti perché l'INPS alla fine ne avrebbe, quello sconto non lo sprecherebbe perché chi lavora da casa ricorre meno facilmente alla malattia evidentemente, credo che statisticamente sia facile dimostrarlo anche. È una soluzione ottima per la fase attuale, l'unico punto critico l'abbiamo visto con la mia linea. quando fai smart working hai bisogno anche di essere collegato con gli altri colleghi e col mondo esterno e io abito in provincia e nelle province le linee non sono così efficienti, però insomma quello è un problema che si può ovviare in qualche modo riducendo per esempio la banda come io per esempio adesso ho spento la telecamera e quindi riesco comunque a parlare. però al di là della tecnologia che non è ancora eccezionale in Italia direi che è un'ottima idea perché è quell'idea semplice ma tra virgolette geniale che ha molti più aspetti positivi ma molto di più che aspetti negativi. Ecco credo che anche qui come per quello della criptovaluta ci vorrebbero le due spinte sia dal basso, cioè le persone dal basso che lo chiedono, sia dall'alto che capiscono questa cosa e che qualcuno si faccia carico sia nel governo sia nell'opposizione e che lavorano insieme e che spingano questa iniziativa perché mi sembra molto intelligente. Ok perfetto nel frattempo e prima di chiedere il parere di Stefano vi mostro come in realtà dal giorno 21 diciamo così il nostro indice su scala oraria si sia inserito in una specie di canale insomma chiamiamolo come vogliamo un pochino ascendente ecco lo vediamo qua sperando che questo possa continuare io sono ovviamente tifoso per tutti coloro che hanno investimenti di lungo periodo e anche per il trading perché possiamo andare solo in un verso che si possa continuare a vedere l'indice salire. Cosa dire Stefano delle cose che ho detto in qualche modo come come le ritieni? No la soluzione smart working sicuramente è importante come dice giustamente Eugenio fermi restando i limiti a livello di connessione che è l'unico vero limite che vediamo ma sicuramente il fatto che tutti quelli che possono almeno in questa prima fase rimangano in una situazione di smart working è sicuramente decisivo quindi spero che questa misura venga implementata sia a livello governativo ma anche a livello delle singole imprese perché non è detto che tutti lunedì prossimo debbano per forza riaprire e nelle valutazioni degli amministratori delle imprese ci possono essere anche valutazioni di opportunità e di attesa in questo senso anche di una maggior chiarezza e in questo senso di un non andare a gravare poi sulle strutture come dice soprattutto trasporti e spostamenti e soprattutto all'inizio si dovrà ben capire come funzioneranno. È vero che tra l'altro almeno qui è stato consigliato apertamente l'utilizzo di mezzi privati e questo quindi ha un peso enorme sulla mobilità, sul traffico e quant'altro e tra l'altro sulle strutture. Perché poi notoriamente noi siamo massacrati durante le stagioni invernali dai stop alla circolazione e tutto, se incentivi il trasporto privato il problema dell'inquinamento tornerà alla grande, no? Esatto, a livello invece di ride sharing si sta ipotizzando, questo anche in Italia, di aumentare il discorso monopattini e biciclette, questo potrebbe dare un grosso aiuto, ad esempio sono stati equiparati, ma questo forse prima del Covid, i monopattini elettrici alle biciclette quindi avevano tutte quelle problematiche di non poter andare, insomma adesso devono comportarsi esattamente come fanno le bici, questo è già positivo. C'è un'ipotesi da parte dei comuni di comprarne in grande quantità, di fare una specie di bonus per chi li compra privatamente e questa sì che potrebbe essere una prima soluzione, soprattutto anche grazie al fatto che andiamo verso l'estate e che non pongono i problemi di disinfezione che invece l'auto in sharing ovviamente per adesso pone fino a quando non si troverà una soluzione a livello di disinfezione. Bene, allora io direi ragazzi che siamo arrivati alla fine del nostro programma di oggi, ricordiamo vi aspetto tutti oggi alle 15.15 perché presenteremo anche una cosa molto molto interessante, quindi vi vogliamo tutti presenti, diciamo che ringrazio tutti, ringrazio anche Maurizio che segnala che lui ha fatto in azienda un esperimento di smart working che non ha avuto molto successo nel tempo, però credo che sia diverso tra il fatto di averlo per scelta o averlo quasi per senso del dovere, forse potrebbe comportare qualche differenza. Detto questo ringrazio il nostro ospite Eugenio Sartorelli, ciao Eugenio, sappiamo che è un impegno, ti salutiamo subito, ciao e Stefano grazie a te, grazie, grazie Eugenio e Stefano grazie a te per averci mandato in onda, grazie per le tue sempre preziose analisi e per il parere espresso riguardo alla situazione di Madrid che è sempre un ottimo punto di confronto per due paesi che nel coronavirus e nel modo di affrontare il tempo subito sono molto simili. Bene, grazie mille a tutti, alla prossima, oggi pomeriggio alle 15.